Seconda Domenica dopo la Dedicazione Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo, un sabato, il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. Uno dei commensali gli disse «Beato chi prenderà cibo nel Regno di Dio!» Gli rispose «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti». Allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati «Venite, è pronto!» Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi». Un altro disse «Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi». Un altro disse «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo disse «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo «Esci per le strade lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia». «Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». Parola del Signore Miei cari, il primo novembre di solito la Chiesa celebra la festa di tutti i Santi. Ma poiché quest'anno la festa accade di domenica, la festa liturgica dei Santi è stata anticipata ieri, perché la domenica, essendo il giorno del Signore, egli deve dominare in contrastato e nessuna festa, né dei Santi né della Madonna, può prendere il suo posto. È un'occasione per noi per sottolineare ancora una volta l'importanza della domenica e della messa dominicale che la caratterizza, in quanto la messa ripresenta e rende attuale la morte e la risurrezione del Signore. Tuttavia oggi ricorderemo anche i Santi, i quali, più di ogni altra persona, hanno vissuto il mistero della Pasqua del Signore. Ritorniamo intanto brevemente sulle tre letture sacre della messa, per capire e per raccogliere gli insegnamenti che il Signore oggi vuole impartirci. Nel brano del profeta Isaia troviamo anzitutto una parola un po' insolita, della quale è bene richiamare il significato, la parola eunuco. La parola, derivante dal greco, può significare le persone che mancano delle facoltà generative e quindi non possono sposarsi. Oppure le persone che, pur avendo questi attributi, decidono di non sposarsi per vari motivi, non ultimo quello religioso. In questo senso ne parla Gesù, riferendosi a degli eunuchi che non sposano per il regno di Dio, ossia perché si consacrano a Lui. Domenica scorsa, nella prima lettura, a proposito del battesimo del funzionario della regina Candace da parte dell'Apostolo Filippo, si diceva che era un eunuco e tuttavia è stato battezzato. Nel contesto biblico di Isaia il termine eunuco ha un significato profetico. Significa cioè che anche queste persone sono chiamate a far parte del regno di Dio, come del resto gli stranieri, continua Isaia, perché la casa di Dio è la casa di preghiera per tutti i popoli. Potremmo quindi vedere in questo passo affermata la chiamata universale degli uomini alla salvezza o anche la chiamata di tutti gli uomini a far parte della Chiesa, che è il luogo della salvezza, purché rimangano fedeli all'alleanza stipulata nel battesimo. L'Epistola di San Paolo agli Efesini, seconda lettura, afferma la centralità di Cristo. San Paolo, rivolgendosi agli ebrei, dice «Voi che un tempo eravate pagani, chiamati non circoncisi, lontani, senza Cristo, ora siete diventati vicini, siete diventati uomini nuovi. Oggi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Gesù». La fede giusta, la fede vera, la fede della Chiesa, è quella che ha per fondamento Gesù, presente nei sacramenti e nelle sacre scritture. «Se la fede non ha per fondamento Gesù, vuol dire che è una fede fragile, una fede di comodo, una fede su misura, una fede di tradizione, una fede di sentimento, ma non è la vera fede che vuole Gesù. Chi dice «Io sono un credente, un cattolico, anche se non vado in Chiesa, se non vado a messa, se non prego, se non sono d'accordo con il Papa e con i preti, si illude di avere una fede, perché la fede vera è quella fondata su Gesù Cristo e sulla Sua Chiesa». Ciò l'ha ricordato anche il Papa nell'udienza di mercoledì scorso, parlando della spiritualità dei secoli XII e XIII, quando hanno avuto grande sviluppo le scuole di teologia nei monasteri e nelle università. Il Papa ha insistito sull'importanza e sulla necessità di nutrire la nostra esistenza con la parola di Dio, perché la fede cristiana trova il suo fondamento nella parola di Dio. Per cui, ha detto il Papa, è importante riservare un certo tempo ogni giorno alla meditazione della Bibbia, perché la parola di Dio sia lampada che illumini il nostro cammino quotidiano sulla terra. È un punto sul quale insisto molto anch'io negli incontri con i fedeli e nel confessionale. Più che un rosario recitato distrattamente, serve leggere e meditare una parola o una frase del Vangelo e pregare, perché quella parola diventi vita. Delle espressioni di San Paolo mi colpiscono poi due particolari. Dice Paolo, voi siete concittadini dei santi e familiari di Dio. I santi sono le persone che sono state rese partecipi della santità di Dio e formano una città dove tutti godono degli stessi diritti e doveri, quelli di dar lode a Dio e di godere della sua gloria. Non tutti i santi sono glorificati anche sulla terra, come è avvenuto per Don Carlo Gnocchi, proclamato beato domenica scorsa, o Madre Teresa di Calcutta, o San Pio da Pietrelcina. Questi sono degli esempi e dei modelli per il popolo cristiano. Ma sono immensamente di più i santi che rimangono sconosciuti agli uomini, ma non a Dio. Noi siamo tra questi, o almeno vorremmo essere tra questi. San Paolo dice anche, voi siete familiari di Dio. Ecco la nostra dignità, appartenere alla famiglia dei figli di Dio ed essere eredi dei beni di questa famiglia. Quanti desidererebbero essere membri di una famiglia reale o nobile per godere dei vantaggi e degli onori di quella famiglia. Ma vediamo che i reali e i nobili, i potenti della terra, sono ben poca cosa. Van soggetti a precarietà e a volte sono anche di scandalo al popolo. Mentre chi appartiene alla famiglia di Dio è sicuro di godere degli onori e della felicità che è stata loro promessa dal Signore Gesù. Il brano di Vangelo di Luca riporta la parabola degli invitati alla grande cena. La parabola può avere due interpretazioni. La cena si identifica anzitutto con il Regno dei Cieli, al quale tutti gli uomini sono invitati ad appartenere. Purtroppo molti rinunciano liberamente all'invito e si escludono così dal Regno, ossia rinunciano alla salvezza. La cena però può indicare anche la Santa Cena che Gesù ha consumato con gli Apostoli la sera del Giovedì Santo. Tale cena si ripete ogni volta che si celebra la Santa Messa, alla quale tutti i cristiani sono invitati a partecipare ogni domenica. Purtroppo in questi ultimi tempi, un po' in tutte le parrocchie, si registra una minor frequenza alla Messa Domenicale. La cosa è palese anche a Linate, nella nostra cappella, perché anni addietro la Messa delle ore undici era sempre frequentatissima, mentre ora notiamo spesso dei vuoti. Allora il Signore che cosa fa? Come nella parabola, ordina al cappellano di invitare tutti i poveri, i senza tetto, i clochar, perché la cappella sia sempre piena e la Messa ben partecipata. E' questo il motivo per cui ogni domenica vengono a trovarci gli amici clochar, per pregare insieme, per ascoltare una parola buona e anche per prendere la paghetta, perché una Messa val bene una paghetta. Anche a me, quando ero bambino, dopo la Messa, il papà mi dava la mancia da spendere all'oratorio, per il gelato, per la granite o per la requilizia. Li salutiamo di cuore, assicurandoli che li stimiamo, li difendiamo e preghiamo anche per loro. Conclusione Oggi è la festa di tutti i santi e domani sarà la festa di tutti i defunti. Possiamo parlare anche di festa dei morti? Sì, perché noi li pensiamo vivi nel Signore e partecipi della sua felicità. Potrebbe darsi però che alcuni siano ancora in purgatorio, sperando che nessuno sia all'inferno, in attesa di entrare in Paradiso. Servono allora le nostre opere di suffragio, che potremo compiere non solo domani, ma nell'ottava dei morti e addirittura in tutto il mese di novembre, il mese dei morti. Ricordiamo che le opere di suffragio non consistono nella visita al cimitero, nei fiori e nei ceri, anche se queste cose sono apprezzabili umanamente, ma non servono ai morti. A loro serve la messa, la confessione, la comunione, il rosario e qualche opera di solidarietà e di carità. Un'ultima sottolineatura. La festa di domani non è solo per i nostri morti, ma per tutti i morti, soprattutto per i più bisognosi e i più dimenticati, per coloro che non hanno nessuno che pensa e che prega per loro. Facciamo questo atto di squisita carità e chissà che un domani qualcun altro lo farà per noi.